Concilio Vaticano II, il Concilio del Futuro. E' questo il titolo dell'incontro tenutosi il lunedì 22 aprile presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno. Al meeting ha partecipato Sua Eccellenza Cardinal Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, Città della Pieve e già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con una sua relazione, dopo i saluti dell'Arcivescovo di Salerno Campagnacerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, e dei Presidenti diocesani del MEIC, della FUCI e di Azione Cattolica, Movimenti Promotori dell'Incontro, rispettivamente Rocco Pacileo, Francesco Di Palma e Maria Vittoria Lanzara. La Convocazione del Concilio fu annunciata da Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio del 1959. Il Papa Buono indicò come scopo del Concilio quello di approfondire ed esporre la dottrina certa e mutabile della Chiesa. Fu tuttavia chiaro subito che uno dei principali compiti del Concilio sarebbe stato il completamento della riflessione sulla Chiesa, sia nel rapporto con il mondo, sia nella definizione della sua identità in natura, già avviata dal Vaticano I, Concilio interrotto dopo la presa di Portapia nel 1870 e mai più ripreso. La prima sessione del Vaticano II iniziò nell'ottobre del 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontifice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI e fino al termine dei lavori, l'8 dicembre del 1965, solennità dell'Immacolata Concezione. Tra tutti i documenti conciliari, il più importante fu la costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa e la sua natura e organizzazione, definita da Paolo VI la magna carta del Vaticano II. Una delle istanze riformatrici di tale documento è la rinnovata importanza attribuita ai laici e a tutto il popolo di Dio nel suo complesso, nella vita della Chiesa. Si ribadì la struttura tripartita della Chiesa che ricalcava tre caratteristiche cristologiche, il sacerdozio, la profezia e la regalità. Il sacerdozio fu visto proprio prevalentemente dei presbiteri, la profezia dei religiosi e la regalità dei laici. Ciò nonostante, ogni componente della Chiesa doveva vivere in quanto battezzato tutte e tre le dimensioni cristologiche. I laici erano visti come i cristiani che assumevano una specifica funzione, ricondurre il mondo a Cristo, testimoniare la propria fede nelle realtà temporali e non più solo come il popolo di Dio guidato dai pastori. Sono passati 60 anni dall'evento conciliare e forse oggi siamo divenuti maggiormente consapevoli di due aspetti. La portata epocale per la Chiesa, ma non solo, di quel concilio è dall'altra del fatto che i suoi contenuti e le sue lunie perspettiche contengono una potenzialità ancora da scoprire e realizzare pienamente, ha osservato l'Arcivescovo di Salerno, Campagna CER, Sua Eccellenza Bellandi. Il volto della Chiesa in uscita, come la chiama Papa Francesco, dovrà continuare a misurearsi con quanto il concilio Vaticano II ha saputo profeticamente e con coraggio indicare.